Abbiamo molta più autostima, possiamo lavorare con più tranquillità, questa è una cosa importante per questo campionato. Dobbiamo calcolare che sotto l'aspetto delle prestazioni non mi sono mai preoccupato, perché ho visto che è una squadra che ha voglia, che è motivata, che affronta le partite nel modo giusto, quindi questa è una grande qualità. È chiaro che c'è tantissimo da migliorare, dobbiamo ancora di più continuare ad avere questa solidità in difesa e soprattutto dobbiamo essere bravi ad analizzare in campo ed essere più pronti nelle difficoltà che troviamo, perché questo è un campionato dove le partite cambiano magari da minuto a minuto. Io guardo di partita in partita, che è la cosa su cui dobbiamo lavorare, cioè preparare bene ogni partita, la classifica in questo momento qua trova il tempo che trova, perché perdi una partita, ne perdi un'altra e ti ritrovi di nuovo messo male. Quindi non è da guardare né in negativo né in positivo, proprio per non farci influenzare sul discorso importante di inizio stagione, cioè quello di far crescere la squadra e farla migliorare. Troveremo una squadra molto chiusa, molto ben organizzata in fase difensiva, una squadra molto giovane come la nostra, quindi sicuramente ci sta da penare sotto l'aspetto della corsa, dell'entusiasmo. È chiaro che loro in questo momento qui non sono tranquilli sotto l'aspetto dei risultati, quindi secondo me verranno veramente con un'attenzione, una cattiveria per cercare di fare il risultato.